Eccoci insieme con il bianca-rosa di V-Sport, punto di vista su Galano, giocatore pronto per la Serie A secondo te? Secondo me sì, deve ovviamente migliorare dal punto di vista proprio dell'intensità della partita, lui a volte ha qualche pausa dovuto al fatto che magari la personalità si crea anche durante i campionati, durante le prestazioni e anche le situazioni a suo favore. È un talento, ma me lo diceva anche Maiellaro, quindi quando parlavo con Pietro la primavera dice Galano e Bellomo sono già pronti per giocare a certi livelli e mi ha detto anche di un altro, mi disse uno è ancora tra i più forti, che purtroppo è un giocatore che si è fatto male tre volte, che è Albadoro, che tecnicamente è un attaccante molto forte. Quindi Galano sono molto contenuto. Ti costringo a sbilanciarti ancora una volta, ma quali sono i giocatori pronti per l'A del Bari? Ma la A è diversa, quindi qui c'è scattato un meccanismo proprio di squadra a 360 gradi che hanno fatto sì delle prestazioni importanti, però credo che Sabelli, Polenta, che veramente, ecco anche su questo mi sono ricreduto l'anno scorso, io quattro anni fa quando ho visto alcune partite mi sembra veramente un giocatore acerbo e anche fisicamente e anche tatticamente. Questo si assicurasse ancora di più e questo sta a lui perché è un giocatore veramente importante. Quindi Polenta, Sabelli, Cepitelli lo voglio rivedere in Serie A perché è uno che è molto bravo a fare gol, deve imparare secondo me un po' la fase difensiva e che l'ha migliorata nella seconda parte del campionato. Credo Ciaudone, Fossetta a me piace molto come centrocampista, è stato anche lui in una situazione magari anche difficile, però è un giocatore che ha personalità in mezzo al campo. Romizzi per i problemi muscolari perché è un ragazzo che ha capacità di gestire la partita, di dettare i tempi, bisogna la vedere dal punto di vista muscolare perché sappiamo che qualche problema in questi anni l'ha avuto. Poi Galano, Nadarevic è in presto, Nadarevic è stato un po' quello che ha dato un po' la svolta a questa squadra, ecco il talento che magari anche lì come testa manca, si deve anche lui. Non stiamo giocando con Nadarevic, quindi vuol dire che questa è la grande forza, quindi diciamo c'è già una base buona, è normale che la Serie A è completamente diversa, si dice che non ha il tasso tecnico negli ultimi anni di 10 anni fa, però è sempre la Serie A e quindi certi meccanismi possono cambiare. Inevitabilmente quando avevamo mosso delle critiche al Bari avevamo anche parlato di due allenatori perché qua di due allenatori si tratta, non solo di Alberti, anzi dal punto di vista tattico più Zavettieri che Alberti. Io credo ci sia stata una svolta anche da punto di vista proprio da chi gestiva in questo caso il direttore sportivo e che aveva fatto questa scelta anche un po' detta da tutti, anche da chi ovviamente seguiva ancora più da vicino le sorti del Bari, perché dopo Gautieri magari uno si pensava un allenatore che già anche emergente, che potesse proseguire anche diciamo sotto l'aspetto tattico il lavoro di Torretti che aveva fatto in due anni. Questi due allenatori magari inizialmente hanno trovato una situazione difficile ancora di più degli altri anni, però tatticamente qualche ruolo l'hanno fatto, credo anche i dirigenti in questo caso di Angelozzi si è intervenuto bene oltre qualche acquista a gennaio ma anche a livello tattico, nel senso che questa squadra ha cominciato a giocare 4-3-3, che è il modulo vero dove in questo caso può dare, Chaudone mi ricordo giocava trequartista, Beltramo è fuori ruolo, quindi il 3-5-2, il 3-4-3 è una squadra che non poteva assimilarlo. No, anche il 4-2. 3-1 con Chaudone che faceva il trequartista, Chaudone è un giocatore che ha capacità di inserimento da dietro. Noi abbiamo perso forse un paio di mesi di campionato. E quindi in questo però dovevano migliorare, c'è stato però ecco da parte di tutti e anche da parte dei media delle critiche e queste le hanno assorbite molto normale in questo caso. Sarà che si sono illuminati tutti in questo momento, però hanno varato questa strana coppia in avanti, Gio Silva, Zani che sembrava come dire quasi una bestemmia calcistica a far giocare due centravanti insieme, invece abbiamo visto Gio Silva sacrificarsi d'esterno e farlo molto bene, Zani forse deve essere persino un po' più centravanti. Non lo è, lo è anche come caratteristice generale in area di rigore, anche col tiro da fuori, già abbiamo visto anche a Crotone, ha trovato la porta e è stato molto bravo Gio Silva, con il tiro da fuori area con il sinistro mi ricordo e poi quella parte in area di rigore dove con il tacco è riuscito a fare gol e anche lì Gio Silva è stato molto reattivo. E' più centravanti, però anche lì è una favola di Ciani, perché insomma io ho visto il suo range, il suo range era di 120 presenti in B con un 18 gol, quindi anche lì è tutto un meccanismo che in questi tre mesi ci sono stati veramente, come si sapeva dire, una favola. Però torno sulla domanda che ti avevo fatto prima della pausa pubblicitaria, che cosa succede? Tu che sei stato un calciatore, improvvisamente vedi che cambia l'aria, cominciano a moltiplicarsi i tifosi, la gente comincia a farlo alto. Questa svolta ha fatto sì che non soltanto a livello di media, tifoseria, ma soprattutto la squadra, anche diciamo i dirigenti stessi, cioè vivere una situazione di stallo, di autogestione, che volevano ancora andare avanti, mi ricordo il dottor Vinella aveva auspicato, ma era difficile perché giocare con 800 Cristiana allo stadio, io sfido chiunque, mi ricordo le due partite secondo me importanti, e ti ricorderai anche tu, che secondo me c'è stata proprio lì la svolta, Lanciano e Avellino in casa. Vinte soffrendo, guarda migliori i campi. Con Lanciano se perdi 3-0 al primo tempo non c'è niente da dire, con l'Avellino una partita normale, cioè potevi fare un punto nei fatti sei, con 12.000 e 17.500 l'Avellino, e lì i giocatori si rendono conto che, allora dice, scatta un qualcosa, ragazzi noi non abbiamo più alibi adesso, abbiamo un gruppo forte, siamo consapevoli che la squadra era buona, qualcuno si sta ambientando, sta crescendo, vedi appunto gli stranieri in avanti dove mancava qualcosa, perché la squadra si esprimiva abbastanza bene anche prima, quindi non abbiamo più alibi. Qui è la svolta per noi, per tutti, abbiamo 20-30.000 persone allo stadio, può esserci, e anche per esempio, l'ho detto l'altra volta, anche qualche acquista a gennaio, anche lo stesso del vecchio, che dà nello spogliatoio, l'uomo di Angelossi, sono l'amico di Angelossi, che dà i suoi, diciamo così, che tiene un po' in pugno tutto lo spogliatoio, nel senso come garanzia di anziano, tra i giovani e i meno giovani, il punto di riferimento. Sono cose che hanno fatto sì che questi meccanismi, e poi insomma anche l'aspetto tattico, l'aspetto fisico, l'entusiasmo, l'aspetto fisico, la squadra adesso ha trovato maturità. Senti, ma questi corrono perché hanno fatto una buona preparazione atletica, o perché la carica del pubblico, l'adrenalina ti fa correre, insomma, so se è chiaro. Tutto il pubblico, e soprattutto anche la condizione fisica, perché sappiamo chi deve raggiungere certi traguardi, o chi si deve salvare, chi va in serie B, anche in serie A, i mesi sono marzo, aprile e maggio. Giugno adesso. E' successo anche a noi. Sì, quindi questi tre mesi è tutto collegato, l'aspetto dell'autofallimento, una nuova proprietà, il pubblico, la condizione fisica e alcuni giocatori che hanno, i tecnici che hanno sbagliato meno, perché tatticamente la gestione della partita di Crotone è stata perfetta dal punto di vista dei cambi e delle soluzioni tattiche. Allora, dicevamo del grandissimo pubblico del San Nicola, un pubblico, non va, un pubblico della Champions, perché queste cose accadono solo quando ci sono delle grandi partite a livello internazionale, che i biglietti vengano bruciati in un batter d'occhio, ci sono gente che addirittura è andata a fare il biglietto a Brindisi, piuttosto che a Bari, per evitare situazioni impossibili, infernali, perché comunque, tenendo conto che ora che comincia a far caldo, stare ore in fila diventa snervante, tant'è che ci sono le camionette della polizia, perché anche l'ordine pubblico va in qualche modo tutelato. Noi siamo andati questa mattina, presto, con la nostra Cristina Ferrini, davanti al Bari Point, dove c'era già tantissima gente in attesa di acquistare un biglietto. Vediamo insieme cosa abbiamo registrato. Sì, ci troviamo davanti al Bari Point, il punto di vendita dei biglietti per la partita che si disputerà al San Nicola domenica prossima, un importante incontro, il Bari contro il Latina. Come potete vedere, alle mie spalle c'è una fila interminabile, sono appena le 10 del mattino ed è quasi registrato il pienone. La zona è presidiata anche dalle forze di polizia per questioni di ordine pubblico. Da quanto tempo sei qui in fila? Eh, un paio d'ore. Sei disposto ad attendere ancora, vero? Eh, diciamo che sì. Per il Bari si fa tutto. Da quanto tempo sei qui in attesa? Da circa due ore. Quanto sei disposto ad aspettare? Pochissimo. In realtà sono qui per comprare dei biglietti anche per alcuni amici che vengono da Roma per vedere questa partita, quindi diciamo che è rinunciabile il biglietto. Pensa di farcela, ad acquistare il biglietto per la partita? Spero di sì, lo sto acquistando per mio figlio che è diventato un tifoso sfegato del Bari. Comunque sì, io volevo lanciare un appello chiaramente agli organizzatori, cioè, visto che si è verificato questo evento, questa esplora, diciamo, di organizzare meglio la vendita di biglietti, di ampliare più centri. Cresce la febbre per la partita di domenica? Sei qui sotto il sole in attesa di acquistare il biglietto? Per la Bari sempre veniamo in fila, facciamo la coda, basta che andiamo a sostenere il Bari. Che speranze ci sono per domenica? Speriamo in una vittoria. Da quanto tempo siete qui? Da due ore, un'ora e mezza forse. Siete disposti ad aspettare tanto pur di acquistare il biglietto? Il biglietto per il Bari tutto. Portiamo nel cuore. Risultato sperate domenica? 2 a 0. Speriamo sicuramente in una vittoria e poi in una finale playoff. Forza la Bari a lei, canto vivo per te, io lo guarderò, sono bianco rosso e mai ti lascerò.